was made up by people that were no smarter than you bella fastici io sono omag oggi siamo tornati con un nuovo tutorial in cui vi spiegheremo un trick molto semplice impariamo a tenere il pallone sulla fronte questo tipo divideremo in tre step primo step dobbiamo capire la posizione corretta del corpo dobbiamo avere le gambe leggermente divaricate le spalle devono essere belle dritte ok e il mento e la fronte devono andare leggermente indietro in questo modo secondo step una volta capita la vostra posizione preferita iniziamo ad allenarci così sono la palla con le mani cercando di tenerlo il più possibile all'inizio cadrà sempre dopo un po iniziate ad abituarvi e arrivere a tenerlo anche per più di 10 secondi e man mano sempre di più terzo step una volta che siamo riusciti a tenere la palla con le mani per più di 10 secondi possiamo iniziare a lanciarla direttamente in questo modo e che appunto la palla non inizierà proprio a bloccarsi sulla fronte bene una volta che avete fatto tutti e tre gli step quindi avete imparato a tenere il pallone sulla fronte potete iniziare a spizzarri per fare quello che vi pare per esempio potete camminare oppure potete meditare oppure potete prendere il sole pure potete fare le trazioni perfetto ragazzi il video è finito se vi è piaciuto mettete un like o un commento lasciate comunque un commento o un like se siete riusciti a prendere il sole se avete fatto le trazioni se avete fatto una passeggiata se avete meditato e noi ci vediamo al prossimo video un saluto da OMAC fast food crew un saluto da